La Procura Generale di Firenze ha fatto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini assolti dalla Corte di Appello per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese morta, precipitando da balcone della loro camera d'albergo, il 3 agosto 2011 durante una vacanza a Mallorca, in Spagna. Secondo la Procura Generale, nella sentenza di Appello ci sarebbero indizi non valutati, risultati, motivazione contraddittoria, valutazione frazionata e priva di logica degli indizi, travisazione di circostanze decisive, elementi che depongono a favore di un ricorso in Cassazione. I due giovani, residenti a Castiglionfibocchi, in provincia di Arezzo, erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Arezzo a 6 anni per tentata violenza di gruppo e morte come conseguenza di altro reato. Il Tribunale stabilì che Martina era caduta mentre tentava di fuggire a un tentativo di violenza sessuale da parte dei due. Il 10 giugno scorso il verdetto è stato ribaltato in appello. Il Procuratore Generale, Luciana Singlitico, ha dunque presentato ricorso. Tra gli elementi sottovalutati ci sarebbero un video ripreso nella questura genovese in cui Albertoni e Vanneschi esultavano perché l'autopsia sul corpo della ragazza non aveva trovato segni evidenti di violenza, a parte i traumi per la caduta dal balcone. Secondo il Procuratore, infatti, non è stato inteso il senso dell'intercettazione. Gli imputati, con quelle frasi, hanno inconsapevolmente, ma assai efficacemente, fornito la chiave di lettura degli accadimenti fino a quel momento nascosta.